Bene, allora buonasera, uso il microfono perché magari qualche fan che abbiamo è rimasto a casa mi attacco a YouTube, dove siamo? Facebook? YouTube, ah perfetto. Bene, buonasera, benvenuti, ci ricorderemo di voi che siete eroici in questa serata sotto il temporale, dicevo prima se sapevo che bastava che il sindaco facesse una conferenza a Prasto del Sorriere per far venire abbondante pioggia avremmo fatto questa cosa già più volte durante l'inverno così avremmo evitato i problemi di siccità, ma in realtà fosse proprio una coincidenza. Beh, insomma, intanto questa è una serata che rientra nel calendario di eventi per il 500esimo della Chiesa dell'Assunta, della parrocchiale di Ecles, della riconsacrazione del 1523 della Chiesa, poi magari alla fine facciamo un sondaggio e ci dite se questa serata merita di essere magari riproposta in autunno, quando riprenderemo le... non riprenderemo le... infatti ci sono tutta una serie di altre serate di attività previste per l'estate, ma in autunno faremo indubbiamente una ripresa di serate e relazioni più storiche, più artistiche, più introspettive riguardo alla storia della nostra Chiesa e vediamo se non sia opportuno riproporre questa serata. Perché? Perché questa è una serata che aveva l'intenzione di essere una serata divulgativa, una serata, non aspettatevi, approfondimenti molto, come dire, precisi, con riferimenti, con ragionamenti storici profondi, perché poi questa è una questione che magari può interessare agli specialisti e nella... in quella che potrebbe essere una giornata di studi da fare in inverno, quando magari ci chiudiamo più volentieri dentro a una sala con una serie di studiosi, di esperti e di esperte, ecco, magari lì lo si potrà fare. Quello che si voleva da questa serata era dare una... immagine, un'infarinatura generale su quello che è il periodo e l'attività artistica che si è sviluppata nel momento in cui qualcuno ha deciso a Clesi di ricostruire la chiesa parrocchiale. Perché? Perché la nostra chiesa, poi Marcello ce lo spiegherà nel dettaglio, dà un po' origine a quello che poi viene chiamato il Rinascimento Trentino, ma che è più conosciuto proprio con il concetto, con il termine di Rinascimento clesiano, sia perché può avere una sorta di origine anche nel nostro monumento, ma anche perché di clesiano c'è il cardinale Bernardo di cui ci parlerà Marcello. Quello che io ho il compito di fare in questo primo... ecco, teniamo un po' gli orari perché non vogliamo neanche tediarvi troppo, poi vi vedo se vi addormentate, proviamo a svegliare un po' la serata. Cerchiamo di essere anche un po' interessanti. Quello che è il mio compito è raccontare un po' l'ambiente culturale, storico, artistico, che è il Rinascimento. E per iniziare vi racconto, nell'89 il sottoscritto era un giovane studente di architettura presso l'Università di Venezia e appunto in quell'anno uno degli esami fondamentali era storia dell'architettura, uno. Poi c'era il due, c'era anche il tre. Naturalmente uno fa architettura, fa storia dell'architettura, uno, ribadisco. E il professore, noi lo prendevamo in giro per due motivi. Il primo perché si chiamava Amerigo e lo prendevamo in giro per la malignità dei suoi genitori che l'avevano chiamato Amerigo, pur sapendo che il cognome era Restucci. Quindi Amerigo Restucci era famoso all'Università di Venezia, fiorentino, doc. E l'altra questione era perché, dicevamo, guarda, questi fiorentini, questi toscani, soliti egocentrici, che fa storia dell'architettura uno e ci parla del Rinascimento, quando probabilmente era il caso di parlare dei templi greci, magari non proprio degli egizi, ma ci farai un uno, parli della classicità, dei romani, delle cose qua. No, Rinascimento, per forza, fiorentino vuole parlare di casa sua. In realtà lui aveva, e ce l'ha anche spiegata perché ovviamente immaginava che queste critiche sopravenissero agli studenti e che avessero un minimo di intelligenza, non erano moltissimi, io non ero tra quelli, me l'avevano spiegata questa cosa. Lui sosteneva che in realtà nell'arte, nell'arte in generale, ci fosse non una linea del tempo da seguire, sì, c'è sempre se si vuole, e anzi è quello che faremo anche questa sera, per la verità. Però lui sosteneva, e per certi versi condivido, che ci sia, che esista una sorta di centrismo del Rinascimento dentro la storia dell'arte nostra occidentale, naturalmente, perché poi abbiamo tutta una serie di altri ambiti sulla Terra che hanno nell'Age e quant'altro che non hanno questo tipo di impostazione. Però per noi il Rinascimento è un centro da cui poi si può partire, andare fuori e di rientrare, ma comunque tutto sempre riconduce ai principi che il Rinascimento ha creato. E proviamo a spiegarvelo, questo principio. Troveremo in questa breve spiegazione molti riferimenti che continuiamo a fare avanti e indietro, ma pur sempre il principio del Rinascimento è quello di riferirsi alla classicità. E questa cosa di tornare indietro e guardare sempre con quel principio del Rinascimento lo continuiamo a fare tuttora, e quando guardiamo qualcosa che ci piace, comunque è qualcosa di classico, è qualcosa di ordinato, è qualcosa di regolare. Insomma, cosa succede? Vediamo se funziona questo computer. Magari Svetlana possiamo spegnere, non troppo, perché ecco grazie. Insomma, quello che parto nel dirvi è che, leggo anche così, evito di perdere tempo, che finisce l'impero romano, questo è il punto nodale del principio della nostra storia, la fine dell'impero romano, quando con questo inizia un periodo buio, il periodo barbarico, il periodo medievale, dove c'è inizia un sostanziale decadimento generale in tutti i campi, io scrivo politico, scientifico, culturale e anche artistico, considerando che l'arte è sempre quello specchio che rappresenta la situazione di una comunità, di una civiltà, di un periodo. E l'epoca barbarica e quell'alto medievale, quindi prima del mille, hanno visto la totale distruzione della civiltà classica, quindi greca e romana. Si sono perse tutte le conoscenze, le attitudini culturali, artistiche, che erano arrivate a dei livelli altissimi fino a quel momento. E quindi, cosa succede? C'è una bella menzione a chi è riuscito a conservare tantissimo conoscenze, non necessariamente religiose, certo anche, ma furono i monasteri e le abbazie a conservare in tutto quello che era possibile conservare. Hanno conservato libri, manoscritti, documenti, pergamene e, come dico, non solo di carattere religioso, ma di ogni tipo, di ogni genere. E le biblioteche sono diventate, poi sono diventate anche oggetto di tanti racconti, di romanzia, manzi, di film, insomma, il nome della rosa è uno di questi, ambientato proprio in una biblioteca abbaziale, che sono diventati monumentali, così come il lavoro minuzioso dei monaci amanuensi, che non solo conservavano, trascrivevano per mantenere la memoria di tutto quello che era il contenuto della conoscenza di quel momento. Tutta questa documentazione è servita moltissimo nel Rinascimento. Ecco, e quindi, nel frattempo, cosa si era passati? Da costruire oggetti, vi faccio vedere delle cose belle, anche quelle che sto cercando di denigrare, insomma, dal Pantheon, che ha tutta una sua logica architettonica molto complessa e molto articolata, per quanto lo vediamo come semplice, ecco, nel romanico arriviamo a delle espressioni che sono queste, indubbiamente, in modo di moda, indubbiamente belle, ma come comprendiamo c'è qualcosa che non torna, naturalmente. nella scultura, nella scultura è eclatante i basso rilievi di uno dei vari archi, non chiedetemi quale, io non vi dirò, non vorrei pesantire con troppe date o con troppe riferimenti, ma insomma, i romani scolpivano questo tipo di basso rilievi, nel Medioevo si scolpiva quell'altro tipo di basso alto rilievi e la differenza è evidente e cosa era successo per non riuscire più a fare la stessa cosa. Nella pittura, ecco, due esempi eccelsi comunque di arte freschi pompeiani, è un mosaico di epoca medievale, che per bello che sia, indubbiamente molto bello, ma non è che voglio denigrare l'arte medievale, sto solo cercando di farvi capire che qualcosa è cambiato, questo Cristo frontale benedicente, a parte l'alone dorato che comunque appiattisce, comunque frontale, mentre i romani riuscivano a mettere, a dipingere perfettamente una persona di taglio attraverso le spalle, di taglio anche nel viso, quindi doppia prospettiva, una capacità eccezionale di rappresentazione che anche oggi sarebbe complessa. Comunque, quello che sia, siamo andati verso un decadimento, non servivano queste tre diapositive per farvelo capire, però è giusto per dare un riferimento pratico. Cosa succede però? Andiamo ben avanti, con il mille, adesso magari non è proprio così, sto un po' generalizzando, però sicuramente c'è il mito del mille, dell'anno mille, comincia a cambiare un po' di cose, il basso medioevo comincia a cambiare anche la politica, comincia i comuni, cominciano un bel po' di novità e sicuramente poi nel 200 e nel 300 c'è un inizio di una crescita importante nell'attività culturale, eccetera. Tanto che i nomi che vi faccio notare, Dante, Petrarca, Boccaccio, Cimabue, Giotto, San Francesco e Marco Polo, sono tutti di quel periodo, sono soggetti che hanno iniziato una rivoluzione. L'hanno fatta con i metodi che potevano avere in quel momento, ma hanno fatto delle cose eccezionali tutti e non sono gli unici, peraltro. Certo è che di tal unici siamo anche persi magari il nome e il cognome perché non si menzionavano gli artisti, non si menzionavano così come poi successe invece dal rinascimento in poi. Però anche solo pensare all'opera di Dante e all'opera di San Francesco nelle loro rispettive discipline, sono stati rivoluzionari tanto entrambi, per non parlare naturalmente dell'arte di Giotto. Ecco, quindi questi sono personaggi che hanno ripreso a dare slancio al pensiero letterario, artistico, politico e religioso dell'uomo, attivando anche, mi riferisco a Marco Polo, i grandi rapporti internazionali che non erano poi così consueti, a scopo commerciale che influenzeranno anche la cultura e le arti, perché Marco Polo riprende, poi va bene la Venezia aveva una storia tutta a sé naturalmente, però ecco si riprende anche un grande lavoro di rapporto internazionale. Questo nuovo spirito aveva in sé la consapevolezza che l'uomo potesse trovare una nuova posizione nel creato e nel rapporto con Dio. Vi propongo l'immagine famosissima di Michelangelo, naturalmente, queste due mani di Adamo e di Dio che sono in procinto di toccarsi, sono due mani uguali, va bene, la Bibbia stessa dice che Dio è immagine, l'uomo è immagine di Dio, insomma e quant'altro, però in questo caso si dipinge Dio, Michelangelo lo fa, cosa che non era poi così ovvia, si faceva ma insomma non così facilmente e soprattutto si cominciava a comprendere che l'uomo avesse la possibilità di giocare un ruolo nuovo, un ruolo diverso dentro la società, anche se questa consapevolezza rimaneva per il momento solo una sensazione, dire la verità era una sensazione che però aveva dato risultati importanti perché le stesse cattedrali, che sono simboli discursi dell'arte gotica ovviamente, sono un inno alla capacità umana, indubbiamente celato paradossalmente, dietro allo spirito devozionale dei monumenti arditissimi. Le cattedrali sono state costruite con tutta una ritualità e tutta una simbologia che serve per ispirare alla divinità, all'altissimo e hanno queste forme che hanno anche questi fuori scala, guardate il duomo di Ulm centrale, quanto sia imponente dentro una città moderna, pensate a quanto poteva essere una città del suo tempo e anche l'interno che vedete a destra, di là invece c'è Notre Dame, questi sono monumenti che sono un inno a Dio, ma se uno li guarda si rende conto che è un uomo, è l'uomo che li ha costruiti e le sue attitudini, le sue capacità potevano essere indubbiamente enormi, se si fosse potuto dire che era merito dell'uomo. Non si poteva dire più di tanto, anche perché dal 1179 fino alla metà del 1300 vigeva anche la inquisizione medievale, che noi conosciamo molto bene, perché qui da noi la caccia delle streghe è stata particolarmente cruenta. Quindi non è che si potesse poi dire tutto quello che si pensava e chi ha iniziato a fare delle rivoluzioni culturali, insomma anche rischiato, ha dovuto farlo con una certa attenzione, mi chiedo anche come Dante è riuscito a fare le cose per bene evidentemente, perché non si scherzava in quei momenti. Ecco, quindi attraverso la lezione dei letterati trecenteschi arriva per l'uomo il momento della consapevolezza e della fiducia di sé e arriva quindi l'umanesimo, il periodo di questa consapevolezza, anche un periodo di inizio di cambiamenti profondi che arrivano tutti insieme e in sequenza, in vari ambiti. L'umanesimo è il periodo in cui l'uomo viene messo al centro, questa consapevolezza matura dentro alle menti di tutti i vari letterati artisti acculturati della società e si inizia questo percorso. Facciamo brevemente, cominciamo a vedere delle immagini che poi magari troverete anche nella relazione di Marcello, vi farò vedere un po' di foto. Insomma facciamo un percorso banalissimo, tutte queste immagini le ho tirate giù da Google, tanto per essere chiari, sono tutte immagini molto facili da rintracciare, non ci sono studi particolari, ma andiamo a vedere come è cambiato dal trilite se i greci sono usciti a trasformarlo in una trabeazione. La trabeazione è diventata poi un arco perché i romani erano particolarmente pratici, forse gli etruschi avevano inventato l'arco, ma hanno scoperto che questo trilite era un po' fastidioso perché necessitava di pietre pesantissime per superare le luci, la luce a quella distanza lì che vedete, e quindi era faticoso da muovere, non era molto elastico. L'arco invece è fatto di pietre piccole, poteva essere fatto in varie dimensioni, forme, era molto più facile da gestire e poi l'arco a sesto acuto è quello che nell'arte gotica serviva perché nello slancio verso l'alto serviva a verticalizzare i carichi e l'arco acuto riusciva a fare proprio questo. C'è un continuo percorso verso la soluzione dei problemi che in cui ogni periodo serviva risolvere. La soluzione è che dal trilite si arriva ai sistemi trilitici, qui siamo a Stonehenge, dalla trabeazione si arriva ovviamente, l'espressione massima è quella dei templi greci e l'arco, l'arco è poi diventato una cosa comunissima fino ai giorni nostri, quasi, però naturalmente l'espressione massima dell'utilizzo dell'arco da parte dei romani non è tanto l'arco trionfale, sì lo vedremo, ma indubbiamente la capacità di costruire archi sovrapposti, qui siamo a Segovia, gli acquedotti romani sono indubbiamente la massima espressione dell'utilizzo di questo strumento e poi l'arco a sesto acuto, ecco vedete sulla destra come combinato l'arco a sesto acuto riesce a realizzare, a costruire delle costruzioni che sono fantastiche, eccezionali, in cui ci si stupisce e si entra anche con tensione e anche con sottomissione probabilmente, anche con rispetto, è chiaro, proprio quello che si voleva fare, il risultato è quello che vediamo al centro, ecco questo è quello che accade, poi però ci accorgiamo che tutte queste cose possono essere prese una per una singolarmente oppure, come i romani erano maestri nel fare, cercavano di non dimenticare mai quello che succedeva prima ed è quello che il rinascimento farà andare a riprendere quello che è successo prima, i romani hanno utilizzato l'arco per sostituirlo alle trabiazioni, hanno inventato le serliane, magari poi si chiamano così per Serlio che è un architetto più recente, ma le realizzavano e l'arco trionfale romano è una combinazione proprio di un arco e delle trabiazioni dell'impostazione architettonica greca, lo vediamo, lo vediamo, questo è uno degli archi, non so dirvi quale, insomma è schematico, è simbolico, vedete le colonne che sono poi messe nelle campiture piene, sopra la grande trabiazioni, in mezzo all'arco, riuscivano a fare di tutte le cose una unità che funzionava, con grande equilibrio, con grande capacità estetica, ecco questo è un po' il percorso di quello che accade. Torniamo però al nostro percorso della storia, nel rinascimento per fare questa grande rivoluzione che l'umanesimo poi concretamente nell'arte trasforma in rinascimento servono grandi personaggi e i personaggi a questo punto cominciano a venire fuori perché probabilmente nel Medioevo c'erano i personaggi capaci, bravi e forti, non avevano le condizioni, non avevano la possibilità però di esprimersi e adesso invece ci sono le condizioni perché un Machiavelli possa scrivere il Principe, perché un medici, Lorenzo de' Medici possa cambiare radicalmente una città e anche basare una nuova economia e così come anche gente come Battista Sforza e Federico Montefeltro possano diventare dei grandi mecenati e sviluppare quello che le grandi famiglie italiane rimangono nella storia, i Medici, i Gonzaga, gli Sforza e Montefeltro, gli Este della Scala, i Malatesta, i Visconti per non parlare di tutta un'altra serie di famiglie naturalmente minori. Ecco questo era l'ambiente politico in cui ci si stava muovendo, ma questo è il periodo delle grandi trasformazioni. In questo periodo fra 400 e 500 succedono le cose che adesso vi dirò. Dal 1492 si dice si possa parlare di modernità, l'epoca moderna, noi pensiamo sia la nostra attuale, la chiamiamo contemporanea, quella attuale, in realtà la modernità parte dal momento in cui si scopre l'America, così magari qualcuno potrebbe, sto un po' generalizzando. Sicuramente l'idea di Colombo è un'idea rivoluzionaria, perché parte dal presupposto che la terra sia rotonda. Colombo è fortunato che il fatto che la terra sia rotonda non confligga con la Bibbia o con i contenuti religiosi della regione cattolica, perché non c'è che intralcia in questo piccolo continente che è l'America, parte da un presupposto che una persona, tutto ad un tratto, decide di andare e provare a vedere se è vero che la terra è rotonda. Ma anche solo pensarlo poteva essere complicato e difficile in quel momento. E lo fa. E si riesce a trovare chi gli dà corda e si arriva alla scoperta di un continente. L'altro lato della medaglia è il signor Cortes, che è qua, perché se Colombo ha scoperto un continente, Cortes lo ha invaso, lo ha conquistato. Ed è una cosa totalmente diversa. Sono le due facce della stessa medaglia, il sogno di Colombo, che si concretizza con la conquista sotto le armi e con grande spargimento di sangue di Cortes. Ma questa è la storia di questo periodo e di grandi trasformazioni. Ma un'altra grande rivoluzione che accade è quella di Gutenberg, che nel 1455 stampa la Bibbia con i caratteri cubitali che aveva inventato, e da lì parte una nuova comunicazione, parte tutto un mondo diverso anche dell'edito, soprattutto dell'editoria, ma della possibilità di avere accesso a documenti, a manifesti, a libri, a tutta una nuova conoscenza che diffonde dinamicamente proprio in tutto quello che era il mondo conosciuto in quel momento. Credo che sia più che paragonabile all'internet dei giorni nostri, solo che quello è stato utile, sicuramente solo utile, internet invece ha anche qualche effetto collaterale. Sicuramente Gutenberg ha anche aiutato una grandissima rivoluzione, che è quella religiosa, lo scisma protestante, Lutero nel 1517, anche probabilmente utilizzando, questo non lo so, le caratteri cubitali, comunque la diffusione delle sue 95 tesi passano anche attraverso l'utilizzo di modalità di stampa più veloci. E Lutero fa una cosa pericolosissima, non è stato messo a rogo solo perché erano talmente pesanti le accuse che faceva che si è cercato di conciliarle e di addivenire a un accordo, appunto a una conciliazione, perché lo scisma protestante era un barlume troppo pericoloso e su questa partita ci sta anche il nostro Bernardo Clesio, che era alla dieta di Worms quando poi hanno deciso, peraltro, di non giustiziare Lutero, è stato scomunicato, d'accordo, però la soluzione è stata un'altra, ma si è arrivati a decidere anche di provare a fare accuse così pesanti verso la Chiesa di quel momento, ma così come Copernico nel 1543, l'anno in cui si sono affrescati queste stanze, sviluppa la teoria copernicana dell'eliocentrismo. Certo, qui sì, c'era da stare attenti, perché qui poi Galileo ha avuto qualche bel problema e ha dovuto anche rispondere di queste tesi, eppure tutto questo accade in un centinaio d'anni che vanno dalla metà del Quattrocento alla metà del Cinquecento. Per dirvi quale fosse il mezzo, ci sta il 1507 quando si inizia a ricostruire la nostra Chiesa, il 1523 quando termina, questo era l'ambiente che si respirava e che respirava il nostro Clesio. Insomma, le trasformazioni artistiche però erano lì sulla porta e la cosa fondamentale che serviva era riappropriarsi della capacità di disegnare in prospettiva. La prospettiva era l'obiettivo, era quello che anche Giotto aveva cercato di fare, l'aveva sviluppata anche bene per la verità, ma ad un certo punto si riesce, questo è un disegno, un quadro famoso, la città ideale è al museo di Urbino, penso sia anche anonimo questo quadro, non ha un autore conosciuto bene, allora vuol dire che il primo disegno veramente doc di rappresentazione prospettica non ha neanche un autore, ma questo è fondamentale, la vedremo continuamente questa prospettiva e poi parte una trasformazione anche nella committenza artistica, non più solo quadri, opere sacre commissionate dalla Chiesa, ma sempre più, la Chiesa rimane assolutamente ben oltre il Rinascimento come committenza principale, però vengono fuori tutti i mecenati delle grandi famiglie che vi dicevo e non solo, perché anche il nostro ecclesio fu uno importante mecenate e questo è un'introduzione dentro l'arte anche di soggetti non necessariamente ecclesiastici. E quindi gli artisti diventano delle star, diventano con i loro atelier, con i loro allievi, che naturalmente poi ogni maestro ha un allievo che lo supera, insomma sappiamo che dietro ogni grande artista del Rinascimento c'è un suo maestro e diventano delle star, le atelier sono dei luoghi preziosissimi nella cultura e poi anche il collezionismo. Iniziano a realizzarsi le collezioni, sono tutte private, dei grandi mecenati, si inizia a lavorare anche con l'archeologia, a scoprire che a Roma in particolare ci sono tanti bei pezzi magari nascosti, magari buttati lì da una parte, dei capiteli e cose varie, si arriva al punto in cui lì a un edecimo chiede a Raffaello di tutelare i beni culturali di Roma, perché cominciava una razzia, si portavano via i reperti, ma già il fatto di riconoscere che questi reperti andavano tutelati era l'inizio delle sovrintendenze, il primo sovrintendente della storia è Raffaello per mandato della bolla di Leone X, lui fa quel che può, così nel frattempo inizia a fare i suoi primi scavi, e dire il vero c'era un buco lì sopra il Colosseo in cui c'entravano dentro un po' tutti gli artisti e in questo buco sembravano delle grotte, solo che erano affrescate in modo magnifico, era la Domusauri, era la villa di Nerone che diventò ispirazione per tutti gli artisti del Rinascimento, perché da lì si sono capiti come dipingevano gli antichi, in questo caso i Romani, insomma succedevano tutte queste cose. Questi sono i soggetti, i principali personaggi dell'umanesimo, vi li elenco velocemente, Machiavelli, Lorenzo il Magnifico, Gutenberg, Lutero, Colombo, Giordano Bruno, Carlo V, l'imperatore su cui non tramontava mai il sole, Niccolò Copernico, Galileo Galilei, Ignazio di Loyola, Girolamo Samonarola, Torquato Tasso, Federico da Montefeltro, Cesare Borgia con tutti i suoi difetti, ma insomma Hernan Cortes, Enea Silvio Piccolomini che ha sicuramente conosciuto anche il Clesio, Leone Decimo e molti altri fra cui il Clesio. Ma poi gli artisti, vediamoli, perché tutti in questo periodo, Brunelleschi, L'Alberti, Bramante, Masaccio, Piero da Francesca, Botticelli, Bellini, Mantegna, Pinturicchio, Vasari, Giorgione, Giulio Romano, Giulio da Sangallo, Donatello, Perugino, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Palladio e poi ci mettiamo il nostro Fogolino, Romanino, Dosso Dossi. Capite che in questo periodo succede qualcosa che non è più successo nella storia della cultura mondiale, non è mai più successo. Ecco perché probabilmente Amerigo aveva ragione nel dire che il Rinascimento è centrale e tutto il resto gira attorno. Quali sono allora questi principi estetici del Rinascimento? Il massimo principio estetico del Rinascimento è quello dell'armonia, senza ombra di dubbio. L'armonia basata sull'equilibrio e sulle proporzioni. Nel Rinascimento qualunque cosa si faccia non può essere modificata, perché gli equilibri progettati in un progetto, in un quadro, in un'opera d'arte rinascimentale, se sposti una finestra al Palazzo Farnese non funziona. Tutto è calcolato alla perfezione. Qui abbiamo l'ispirazione comunque umana in una pianta, potenziale pianta di una chiesa, che è una parte centrale con la cupola e poi una navata, e degli schizzi che pensavano di arrivare a rappresentare le proporzioni umane, si andava a lavorare anche sull'anatomia umana, dentro le piante della chiesa. Vi faccio notare che esisteva anche prima una modalità di costruzione delle chiese, ce l'abbiamo a Dres, questa cosa. Don Ambrogio Malacarne me l'aveva fatta notare quando aveva fatto il restauro. La chiesa di Dres ha fatto un'abside seicentesca, poligonale, che era completamente storta rispetto all'asse della chiesa. E qualcuno, quando abbiamo fatto il rilievo, diceva Don Ambrogio qui c'è tutta storta questa abside. Ah no, non è mica storta. Questo è il cosiddetto inclinato capite. Il fatto che l'abside veniva girato addirittura, diciamo, di 21 gradi, a Dres non è così, quindi parecchio, per indicare la testa del Cristo morto, il capo inclinato del Cristo morto sul crocifisso. A Dres c'è, ma c'è un'idea, e quindi anche nelle piante delle chiese, non solo nelle facciate, nei fronti, ci sono dei calcoli prospettici, ci sono gli stessi calcoli di proporzione, non prospettici, che troveremo magari anche nel rapporto che ci farà poi Marcello, anche delle facciate della nostra chiesa. Ne conseguono architetture, sculture e pitture profondamente diverse da quelle gotiche. Guardate, vi faccio vedere questo esempio. Sono, ma soprattutto, opere molto semplici, essenziali, ordinate e comprensibili per istinto. Quando si guarda un'opera rinascimentale, ognuno ha la possibilità di comprendere armonia, serenità, equilibrio. Guardate che la resurrezione della Capale di Scrovegni di Giotto, non è che vi sto facendo vedere l'affresco di San Vigilio, che è bellissimo, però comprendiamo che è sicuramente un pittore non secondario, ma forse anche di... Vi sto facendo vedere uno dei principali pittori del 300, in una delle opere che qualcuno ritiene sia anche più importante della Basilica di Assisi, la Capale di Scrovegni. A sinistra la resurrezione di Giotto. Guardate che tipo di organizzazione fa Giotto di questo evento. E guardate, Piero della Francesca, che secondo me è in assoluto il più grande artista del Rinascimento, ha dipinto pochissimo, peraltro, fa dello stesso momento. Sono due quadri, due immagini che rappresentano in modo completamente diverso la stessa cosa. Danno emozioni diverse e indicazioni diverse. Poi spiritualmente potremmo andare a comprenderne qual è il significato, però qui è chiara la posizione, l'equilibrio. Forse Piero, essendo uno dei primi che hanno strutturato le sue opere in modo equilibrato e preciso, diventa talvolta rigido. Giotto, invece, è un po' più dinamico, ma indubbiamente l'equilibrio e l'armonia di Piero della Francesca non è paragonabile neanche a quello di Giotto. Così come, cosa succede? Lo stupore gotico è sostituito dalla serenità che le arti regalano all'osservatore. La grande cattedrale e la villa di Poggio Caiano, Giorno della Sangalo, delle prime ville medice di Firenze. Sì, la cattedrale, probabilmente, penso che la villa di Poggio Caiano può essere messa in sacrestia di questa cattedrale, molto probabilmente. Guardate l'immagine, guardate gli elementi, guardate il timpano greco, la parte centrale, guardate la precisione con cui vengono messe i fori, le arcate, le scale. Qualunque cosa in Giuliano della Sangalo è inamovibile, anche probabilmente nella cattedrale, ma semplicemente perché se toglie un concio in quella cattedrale, probabilmente crollerebbe tutto. Sono però linguaggi totalmente diversi. E poi arriviamo al recupero e al dominio della prospettiva. C'è un'opera, un'opera che, se non ricordo male, è a Santa Maria del Fiore, a Firenze, che è la Trinità di Masaccio. Io scrivo la Trinità di Masaccio, Puntini e Brunelleschi, perché questa è un'opera, è un affresco, molto bello peraltro, che rappresenta la Trinità. Vedete il Cristo, dietro c'è Dio, poi c'è lo Spirito Santo, poi altri personaggi. Ma a sinistra vi faccio vedere lo studio, il riassunto dello studio prospettico, che Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, primo grande architetto del Rinascimento, aveva fatto per conto di Masaccio per costruire l'immagine della Trinità. Questo quadro, questo affresco, è stato dipinto sulla base di uno studio prospettico, che è quello di sinistra. Probabilmente è capitato ancora altre volte nel Rinascimento, e poi dopo magari si riesce anche a gestire questa cosa con più istintualità da parte degli artisti, però qui si arriva a un calcolo preciso. E infatti l'esecuzione di Masaccio è anche molto scolastica, se vogliamo, ma è un caposaldo dell'immagine rinascimentale. Tanto che, guardatela bene, quell'immagine lì è ripresa perfettamente da Leo Battista Alberti, da Rossellino, se non ricordo male, il suo aiutante, il progetto dunque dell'Alberti, al Basilico di Sant'Andrea di Mantova. Queste arcate, guardate la basilica quanto ci ricordi un tempio romano, con l'arcata centrale, con le colonne laterali, e sopra c'è la trabiazione del tempio. Insomma, ci sono un bel po' di cose che tornano. E questa è un'esecuzione molto vicina, si passa dalla pittura all'architettura facilmente. E guardate, in termini di prospettiva centrale, cosa succede? Si riesce a vedere uno sposizio, una vergine di Raffaello, con il pretesto della prospettiva, che probabilmente era particolarmente interessante, per gli artisti di quel periodo, mette quel tempio, pianta centrale, poligonale, dietro, con l'architettura della pavimentazione, poi davanti c'è la scena dello sposalizio, certo, e al centro c'è il meraviglioso tempietto, miniatura, di Bramante, a Roma, che è puramente un plastico per quello che doveva essere anche la cupola di San Pietro che lui aveva in qualche modo immaginato. E a destra, Giovanni Bellini, è una delle bellissime sacre conversazioni che in quel periodo poi nascono, in dove la prospettiva centrale è sviluppata in modo più articolato, più complicato, più concettuale, in modo concavo invece che in profondità. Però c'è uno studio precisissimo su questo tema, anche della posizione dei personaggi. Così ancora la prospettiva centrale, eccola qua, ancora il Perugino, Capella e Sistina, e ancora nel Cenacolo questo scene di base di questi personaggi, però dietro c'è sempre uno sfondo, c'è sempre qualcosa che ci fa guardare lontano. Quella modalità di guardare lontano che avevano proprio i personaggi, gli artisti e gli acculturati del Rinascimento. Così come ancora Piero della Francesca, questo Cristo alla Colonna, due scene, vediamo in fondo il Cristo alla Colonna, davanti, in proporzione con questa prospettiva messa nell'architettura, che ci fa vedere come Piero dominasse, ci è divertito un mondo a fare questa piccola tavola, peraltro, e Leonardo che divide in due la sua annunciazione in modo molto preciso e ci fa vedere al centro questa prospettiva, così come l'aveva fatto anche nel Cenacolo, probabilmente, facendo spostare addirittura San Giovanni per far vedere cosa c'è dietro. Ma, al di là della prospettiva, il Rinascimento si basa, come dicevamo, sull'equilibrio e sul ritmo, ritmo ed equilibrio, meravigliosa la semplicità dell'ospedale, il portico dell'ospedale degli innocenti a Firenze, Brunelleschi, fa un lavoro di calcolo preciso, molto semplice, peraltro, dell'arcate, come devono essere, le proporzioni delle colonne e quant'altro. Questo portico con quella traviazione e sopra il piano è uno dei principali esempi della concezione rinascimentale dell'architettura, semplicissima, però monumentale, così come la Basilica di Pienza, Bernardo Rossellino, Piccolomini è stato il committente ed anche se andate al mare a Rimini va benissimo prendere il sole e fatevi un giro in centro. Esiste il Tempio Malatestiano dell'Alberti che è incompiuto ma che ambiva ad essere ripreso la ridefinizione di un arco trionfale romano appiccicato dentro una facciata. Guardatele queste figure perché le troveremo anche qui da noi ma il ritmo e l'equilibrio Michelangelo e Palladio entrambi lavorano sul Palazzo Farnese e sulla Basilica Palladiana di Vicenza con lo stesso tipo di principio ritmo equilibrio fra altezze campate luci arcate e quant'altro tutto funziona alla perfezione così come il Brunelleschi ancora a Firenze in queste esecuzioni anche un po' più articolate a Cappellare dei Passi meravigliosa e all'interno della Basilica di San Lorenzo ma l'altra cosa è la grazia e la leggerezza non più cose pesanti leggerezza eleganza allora guardate il Davide Donatello è alto quanto è alto questo un metro questa statua forse neanche no di Donatello piccolina no ecco lui ha sdoganato la grazia nella scultura che non c'era prima e la stessa grazia la troviamo in Michelangelo appunto 4-5 metri non so quante tonnellate di marmo di Carrara che riesce Michelangelo a sviluppare con la stessa grazia di Donatello insomma quasi direi ma guardate anche la parte della pietà e anche un piccolo cenno del Mosè di Michelangelo quanto riesca a sviluppare leggerezza con delle opere pesantissime fisicamente ma ancora la grazia e la leggerezza di Botticelli è indiscussa fuori di cui c'è anche la prospettiva centrale così come la bellezza la serenità che si respira nella Madonna di Raffaello sono ambientazioni serene sono ambientazioni molto pacate così come la dolcezza della Dama con l'ermellino fino ad arrivare a una delle opere a una delle opere che secondo me spettacolari di tutta l'arte non solo rinascimentale ma come il Mantegna come siamo con il Quattrocento riesca a sviluppare le conoscenze della prospettiva abbinate a un momento a un momento drammatico della rappresentazione del Cristo morto facendola con un rispetto che ha nei confronti del soggetto importantissimo è una esecuzione meravigliosa sembra di potersi avvicinare di poter pregare vicino a questo Cristo morto è una cosa strepitosa ma infine la grazia e la leggerezza sono nell'architettura anche quelle del Palladio perché riesce a evolvere l'architettura in un modo strepitoso sviluppandola sia nelle grandi ville sviluppate in lunghezza o in larghezza ma questa poi la rotonda famosa riesce addirittura a creare una rotondità completa attorno al suo modello insomma grazie a leggerezza forse il Mantegna con questo brandello della Camera degli Sposi è forse uno l'inno uno degli inni più belli della capacità che in quel momento si era sviluppata di rappresentare di essere interpreti del sviluppo dell'arte dell'idea rinascimentale chiudo il rinascimento però aveva un coraggio in quel periodo rivoluzione abbiamo detto bene allora vi faccio notare che in quel periodo si è deciso di debolire completamente la basilica costantiniana che stava lì da qualche bel secolo a Roma e che aveva così una delle varie ricostruzioni aveva più o meno questa conformazione possiamo immaginarci un po' San Paolo fuori le mura come un esempio simile è stata hanno deciso di demolirla era quella su cui stava la tomba di San Pietro è stata trasformata in quella che vediamo a destra che conosciamo tuttora a dire il vero si è arrivati così a finirla con il Bernini direi 200 anni dopo che si è iniziato a demolire e all'inizio non si pensava ad arrivare fin lì sarebbe come oggi sarebbe impensabile demolire San Pietro per chiamare Renzo Piano a fare un'opera moderna anche perché probabilmente non avremo necessità la potremmo farne un'altra ma in quel momento lì loro hanno voluto cambiare quella quella basilica che stava sulla tomba di Pietro e hanno deciso che questa cosa si poteva fare è vero non c'era il rispetto per l'arte come l'abbiamo oggi però badate anche a questa volontà di rivoluzione di cambiamento non c'era problemi non ce ne avevano per nessuno ce ne avevano per tutti bastava decidere di fare allora queste sono le prima di lasciare adesso lo spazio a Marcello le tre chiese ecclesiane la chiesa nostra quella di Civezzano e Sant'Eomere Maggiore a Trento c'è un percorso che lega queste tre chiese e se badate alle varie immagini che vi ho fatto vedere in questi in questi 40 minuti probabilmente trovate dei riferimenti indubbiamente ricordiamoci che anche a Cles si è deciso di demolire una chiesa per fare questa probabilmente non aveva la stessa forza la stessa importanza della basilica costantiniana non c'è dubbio però qui comunque a un certo punto hanno deciso di tirare giù tutto e di ricominciare da campo con un progetto nuovo e con una mentalità nuova si è partiti magari dal campanile che rimane gotico però nell'esecuzione della chiesa magari adesso Marcello ci dirà che cosa è successo scusate sono stato lungo però ho fatto prima possibile Marcello buonasera a tutti io mi siedo perché sono più comodo allora Ruggero ha contestualizzato il periodo costruttivo della della chiesa arcipetrale di Santa Maria Assunta che è un periodo appunto come abbiamo visto molto particolare importante per la storia dell'arte e dell'umanità siamo in pieno rinascimento la chiesa di Santa Maria Assunta però proprio due cenni molto brevi esiste abbiamo detto appunto è una ricostruzione quella del 1523 quindi esiste da tempi precedenti e per l'esattezza almeno si dice esiste immemorabili cioè esiste da da un periodo imprecisato si scrive sui libri del primo novecento del Weber del Negri Gli scavi archeologici però ci hanno dato una gran mano per capire cosa esistesse sul sito dell'attuale chiesa precedentemente degli scavi archeologici effettuati attorno al 2001 2002 durante i restauri della chiesa parrocchiale hanno portato a luce vedete degli edifici parti di edifici tardo antichi e interessante questo per chi di voi è ecclesiano vedere anche un po' lo stato degli studi queste due immagini sono riprese dal libro su Luigi De Campi e sono degli studi fatti dall'archeologo Dennis Francisci però è interessante vedere la strada romana che passava vedete dove c'è il cinema dietro il cinema passava poi nei pressi della chiesa parrocchiale entrava nell'attuale rione di Pez per poi scendere i tratti della strada romana sono stati trovati in più punti sia nella zona dove c'è adesso casa Jufman circa sia nell'attuale oratorio e appunto dove c'è la chiesa parrocchiale sono stati trovati delle tracce di murature comunque di un edificio tardo antico altri scavi archeologici hanno individuato all'interno della chiesa degli edifici sacri di epoca tardo antica databili tra il quarto e il nono secolo la prima menzione invece della chiesa del 1188 quindi la chiesa viene nominata in un documento è un documento molto interessante che su cui potremo dedicare una serata intera perché racconta un po' la storia anche della famiglia d'Ecles questo documento del 1188 ma adesso andremo troppo lunghi parlando anche di quello quindi rimanderemo la storia di questo atto del 1188 un'altra volta però è interessante perché è la prima menzione della chiesa sempre in quel periodo circa nel 1128 quindi 60 anni prima abbiamo invece la prima menzione della pieve di Ecles quindi diciamo dell'unità amministrativa diciamo territoriale la chiesa di Santa Maria Assunta era la sede della pieve nel Medioevo ma poi in realtà anche nell'età moderna quindi quando la chiesa viene ricostruita all'inizio del 1500 Cles era all'incirca così questa è una ricostruzione che è stata fatta da Stefano Benedetti raccogliendo con un gruppo di lavoro di studio tutta una serie chiaramente di dati e qui abbiamo un'immagine di come doveva essere Cles durante il Medioevo ma anche diciamo immediatamente prima la costruzione dell'attuale chiesa arcipretale il centro del paese erano in realtà i tre quartieri di Spinazzeda Prato e Pez e la chiesa di Santa Maria Assunta che era la chiesa pievana e quindi la chiesa che doveva stare al centro del territorio vedete era si era sita nel limite estensionale del quartiere di Pez e comunque quasi in centro diciamo ai tre colomelli principali in questa ricostruzione è interessante notare come la chiesa attorno avesse un muro di cinta non era esattamente così in realtà stava nella parte estensionale ma anche la chiesa parrocchiale aveva il suo cimitero nella parte estensionale e un'altra cosa interessante che vediamo in questa ricostruzione grafica è la chiesa di San Valentino nelle attuali Moie che adesso non esiste più ma la cito perché non esiste più perché nel 1800 quindi 200 anni fa quando si è resa necessario un ampliamento della chiesa parrocchiale con l'allungamento di due campate la chiesa di San Valentino sta battuta e il materiale di risulta è stato utilizzato per fare le due campate in più della chiesa oltre ai terreni che sono stati venduti per finanziare il progetto comunque questo era il paese in quell'epoca storica e questo invece è tutto il territorio pievano di Cless durante il Medioevo ma soprattutto insomma durante il periodo diciamo negli anni della ricostruzione della chiesa parrocchiale la chiesa parrocchiale era appunto sede pievana e diciamo governava amministrava dal punto di vista ecclesiastico tutto il territorio dalla frazione di Meckel a San Vito Caltron Dresmaiano e i tre colomelli centrali ognuno di questi quartieri e frazioni aveva la propria la propria cappella l'unica traccia esistente dell'edificio preesistente l'attuale è la la pietra tombale la lastra tombale di Giorgio di Castelcles Giorgio di Castelcles era il nonno di Bernardo Cless un personaggio potentissimo all'epoca perché era capitano delle valli di non e di sole e aveva anche il il governo non è il termine giusto aveva un titolo di cui mi sfugge il nome comunque insomma era il protettore del santuario di San Romedio quindi un un personaggio influente e potente che ha voluto questa pietra tombale c'è proprio una descrizione attorno per sé e per i suoi familiari e questa pietra tombale è datata 1400 probabilmente c'è un forse non è stata finita questa iscrizione del tutto perché il Giorgio di Castelcles è vissuto alla fine del 400 sulla pietra comunque si ritrova questa data 1400 e è l'unico elemento precedente la ricostruzione ecclesiana esatto sì Giorgio di Castelcles come mi sta ricordando il sindaco è stato anche l'artefice della ricostruzione di palazzo sessoriere da torre romanica alla cubatura attuale e lo stemma che c'è in facciata che è datato 1474 è proprio stato voluto da Giorgio di Castelcles nel 1475 abbiamo delle notizie rilevanti legate alla chiesa parrocchiale perché Udarrico di Liechtenstein che era pievano all'epoca in questa immagine vediamo la sua tomba presso il Duomo di Trento Udarrico di Liechtenstein che era pievano e che diventerà poi principe vescovo di Trento ordina prima urgenti e importanti riparazioni nei documenti si evince come la chiesa avesse dei gravi problemi anche strutturali e tra l'altro riuscì ad ottenere le famose 100 giorni di indulgenza chi avesse offerto dei denari per il restauro della chiesa dell'epoca ma l'edificio era oggettivamente in precarie condizioni tanto che qualche anno dopo nel 1507 il pievano Giovanni Curz decide ordina l'abbattimento probabilmente era un malato estremamente grave la chiesa di Clis all'epoca perché ordina l'abbattimento la ricostruzione totale della chiesa questo nel 1507 nel 1508 vengono incaricati i maestri Simone Pietro e D'Antonio di ricostruire la chiesa e una cosa che non ho detto del pievano Curz è una cosa molto importante è che lui lascia per circa 30 anni un libro il libro dei conti diciamo così della ricostruzione della chiesa e quindi abbiamo il registro delle spese abbiamo per filo e per segno tutte le le spese che sono state fatte durante quei 25 anni circa 20 anni di costruzione e in questo registro delle spese i nomi di Simone e Pietro e Antonio continuano a ricorrere i grandi studiosi degli anni 80 70 80 che hanno trattato la storia della chiesa parrocchiare di Cless penso per esempio a Domenica Primerano che ha scritto un importantissimo volume nel 1985 Bernardo Cresio Signore del Rinascimento ma poi pensiamo a Rasmo e tantissimi altri studiosi hanno visto in questi Simone Pietro e Antonio l'architetto Antonio Medaglia della Val d'Intelvi che è stato anche l'architetto della chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento Santa Maria Maggiore è documentato come Antonio Medaglia da noi il cognome non c'è ma è molto probabile che siano la stessa persona comunque Simone Pietro Antonio probabilmente appunto Lombardi come gran parte degli architetti di quel periodo sono i mastri muratori diciamo così della chiesa parrocchiale probabilmente anche i direttori i lavori veri e propri la torre campanaria è la prima ad essere ricostruita i lavori partono nel 1508 e viene terminata nel 1517 questo lo sappiamo perché nella nella boccia che c'è sulla sommità una boccia che sembra un puntino questa fotografia ma è larga 50 cm per dare un attimo il senso delle proporzioni la boccia recca la data 1517 e il campanile che tra l'altro viene costruito appunto prima del periodo ecclesiano perché Bernardo Ecclesio non è ancora principe vescovo di Trento è completamente gotico è puramente gotico tedesco quindi qui l'influsso rinascimentale non si è fatto vedere per nulla per quanto riguarda la struttura della torre campanaria gli influssi rinascimentali si vedranno invece poi nella nella chiesa e sono dovuti anche chiaramente alla l'elezione a principi vescovo di Trento di Bernardo Cles che appunto nel 1514 viene eletto principi vescovo di Trento e che oltre a governare il principato mette mano a tutta una serie di opere di rinnovamento artistico culturale e spirituale diciamo così per contestualizzare anche qua cerco di essere rapido il periodo storico qui appunto non dal punto di vista artistico però interessante vedere dove era sito il principato vescovo di Trento all'interno del sacro romano impero di Germania era lo stato più meridionale confinante con la Repubblica di Venezia e il fatto di essere una diciamo in un in un luogo una cerniera quasi tra la cultura tedesca e quella italiana ha fatto sì che questo territorio fosse influenzato da queste due culture in maniera molto forte non solo nella lingua negli usi e costumi ma anche nell'architettura e la chiesa di Cles è figlia di questa commistione del fatto di essere una zona in cui erano molto forti le influenze tedesche e le influenze italiane al contempo in quest'altra immagine abbiamo il sacro romano impero di Germania ai tempi di Bernardo clesse allora questo è il sacro romano impero di Germania quest'altro invece diciamo quelli sono i possedimenti degli Asburgo e di Carlo V non mi interessava tanto farvi vedere come Carlo V governasse anche su gran parte delle Americhe sulla Spagna Paesi Bassi eccetera ma come vedete il Principato di Trento sia in questa in questa zona di frontiera tra la Repubblica di Venezia che era la cernimo nemico dell'Austria in quel periodo lì e appunto l'area tedesca il fatto di essere lì chiaramente creava tutta una serie di vantaggi ma anche tutta una serie di difficoltà per il governo del Principato Vescovile qui non le guardiamo neanche sono delle tappe importanti all'interno della vita di Bernardo Clesse che vi faccio solamente notare come nel 22 viene nominato Cancelliere quindi Primo Ministro del Ferdinando d'Asburgo e nel 1528 diviene Consigliere Supremo di Carlo V quindi una sorta di Primo Ministro dell'Imperatore Carlo V mentre nel 1530 diventa anche Cardinale la volontà di rinnovamento che ha Bernardo Clesio è proprio di un signore di nascimento e Ruggero ci ha fatto vedere poc'anzi come appunto Lorenzo il Magnifico e tutti gli altri signori dagli Est ai Farnese eccetera eccetera abbiano voluto rinnovare le arti la cultura la letteratura eccetera la volontà di rinnovamento non c'è solamente nell'arte ma c'è anche nell'urbanistica pensiamo a Trento che viene non dico ricostruita ma quasi da Bernardo Clesi nella giurisprudenza nell'amministrazione nelle scienze vi cito per quanto riguarda le scienze ma perché siamo qua in palazzo sessorile l'aiuto che diede Bernardo Clesi a Pietro Andrea Mattioli medico e botanico senese sepolto all'interno del Duomo di Trento la tomba di Pietro Andrea Mattioli è nella controfacciata immediatamente entrando nel Duomo di Trento a destra ha una tomba che è più grande e più monumentale di quella di Bernardo Clesi mi fa sempre specie un po' questa cosa però ecco Pier Andrea Mattioli è vissuto una decina d'anni a Clesi e pare proprio all'interno del palazzo sessorile perché aveva richiesto espressamente a Bernardo Clesi di poter venire qui per studiare lui botanico e medico le erbe che c'erano sul monte Peller e lui abitò qui in palazzo sessorile con la famiglia e oltre a produrre il suo famoso erbario che fu un libro di testo fondamentale nelle facoltà di medicina fino al 1700 circa qua dentro probabilmente disegnò questa è una replica questa che vedete ma disegnò questa invece è l'originale è una parte un particolare dell'originale disegnò la famosa carta della Naunia delle Valle di Noni di Sole quella che è considerata una delle più dettagliate carte geografiche del del 500 se voi andate a Roma nel Vaticano a vedere le famose carte vaticane vedrete come il il Trentino o comunque tutta la zona del Tirolo non ha praticamente paesi tranne la Valle di Noni di Sole se non si hanno diciamo conoscenze approfondite in come si dice nella topografia e in questo tipo di di scienze diciamo così si pensa cavolo in Val di Non nel 1500 era pieno di paesi dall'altra parte non viveva nessuno in realtà non è così semplicemente la carta delle Mattioli è diventata così nota e era unica nel senso che le altre valli all'epoca non ce l'avevano un cartografo non avevano avuto un cartografo che aveva disegnato tutti i paeselli praticamente ma la carta delle Mattioli era diventata così nota che ovunque si rappresentasse il principato di Trento le uniche notizie le uniche diciamo conoscenze erano quelle tramandate dalla carta delle Mattioli del resto non si sapeva nulla quindi il Trentino veniva rappresentato con la Valle di Noni ricca di paesi e il resto vuota questo fino all'Ottocento circa le carte del Trentino fino all'Atras Tirolensis fino a metà Settecento hanno la Valle di Noni ricca di paesi perché chiaramente tutti gli altri cartografi molto comodamente si tenevano la carta del Mattioli la copia della carta del Mattioli davanti e ricopiavano tutti i paesi per il resto non sapevano nulla e appunto stessa cosa c'è nelle carte vaticane che sono del 1580 mi pare lì la Valle di Noni appunto è molto ben dettagliata questo grazie al Mattioli che era capace di darci dei dati molto interessanti come per quanto riguarda San Zeno qui riposano i corpi degli Santi Martiri di Sisigno Martiri e Alessandro qui si trovano medaglie antiche di metallo e d'argento oppure per San Romedio altri dati cioè lui ha descritto tutte le frazioni ma ha dato anche poi delle interessanti spiegazioni mette tutti i ponti vedete che c'erano sul Noce all'epoca è interessante per quanto riguarda la nostra zona di Cles il fatto che ci fossero i laghi e il fatto che in questo caso Cles viene già chiamato Borgo perché Cles acquisisce il titolo di Borgata nel 1530 o 1535 adesso mi sfugge proprio grazie a Bernardo Cles che dà il titolo di Borgo al paese dirà non dovrà più essere appellata Villa ma Borgo d'ora in poi dice Bernardo Cles e quindi Cles è la seconda Borgata della Val di Non perché la prima è Fondo perché Fondo ha il titolo di Borgata grazie a Massimiliano I d'Asburgo mi pare dal 1519 il rinnovamento nell'architettura Bernardo Cles ricostruisce il parte del castello del Buon Consiglio col Magno Palazzo che è un palazzo rinascimentale ricostruisce o comunque decora molti palazzi e castelli soprattutto i castelli vescovili come Castel Stenico per esempio il castello di Famiglia che viene gravemente danneggiato dopo la guerra dei contadini del 1525 il fratello di Bernardo Cles viene anche ucciso all'interno del castello durante la guerra dei contadini fatto sta che dopo l'incendio del castello il castello viene ricostruito e Bernardo Cles ordina assieme ad da Liprando che Liprando è lo stesso il nipote che è qui anche in Palazzo Sorile ordina di rettificare forse non è il termine giusto ma di portare tutti i palazzi che in realtà componevano il castello di Cles alla stessa altezza per portare la facciata vedete a quell'ordine che il rinascimento richiedeva la veduta del castello di Cles per noi è parziale perché nel 1824 ha subito un altro incendio che ha portato all'aperta dell'ala nord e della terza torre dobbiamo immaginarci qui un'altra ala identica questa con una torretta da questa parte comunque era stato diciamo decorato e pareggiato da Bernardo Cles in altezza il castello durante il periodo Clesiano viene anche restaurato il palazzo sessorile decorato con questi affreschi del fogolino tornando alla nostra chiesa chiaramente all'interno del programma di rinnovamento di Bernardo Cles doveva essere anche appunto il rinnovamento dell'architettura sacra delle chiese e per rafforzare anche il il credo nella chiesa di Roma lui rafforza anche il la come si dice la il culto di Maria Vergine e quindi cerca di fare un lavoro di ricostruzione anche delle chiese dedicate a Santa Maria Assunta proprio per per questioni che sono anche politiche perché in quel periodo storico lui sta combattendo contro il protestantesimo che è dilagante in quel periodo storico tanto che lo vediamo all'interno di Palazzo Sessorile negli affreschi che ci sono all'ultimo piano con l'Antico Testamento molti esponenti delle famiglie nobili e anche imparentate con i cless erano ormai luterani fondamentalmente e quindi Bernardo Cless per contrastare questo fenomeno cerca di rafforzare il culto della Vergine e lo fa anche ricostruendo tutta una serie di chiese dedicate appunto a Maria e Bernardo Cless quando appunto diventa principe vescovo decide subito di nominare il fratello Baldessare che tra l'altro è quello che verrà ucciso nel 25 se non erro durante la guerra rustica comunque nomina il fratello Gubernator Major Fabrica Ecclesia quindi il governatore del il commissario straordinario esatto è il commissario straordinario di ricostruzione della chiesa arcipretale e nel generale figliuolo della situazione Baldessare e Cless che fa fra le varie cose cosa fa non tanto dà i propri denari perché i Cless in questo periodo storico non danno i loro soldi per la chiesa li daranno dopo con alla fine del 1500 con la donazione della campana grande detta la barona e poi soprattutto nel 700 con l'argenteria e Clessia ma in questo periodo storico più che dare soldi sono molto convincenti nel farsi dare soldi dagli altri e quindi Baldessare di comune accordo con tutti i sindaci delle varie chiese di Cless perché ogni cappella aveva il proprio sindaco che l'amministrava e decide fa sì che ogni famiglia ogni fuoco dia 20 grossi 20 denari praticamente per finanziare la ricostruzione della chiesa non solo la pieve di Cless vende moltissimi terreni in quell'epoca lì per poter finanziare questa costruzione che evidentemente era molto costosa insomma anche perché noi eravamo all'epoca in una zona molto ricca dal punto di vista anche agricolo sì sicuramente molto ricca dal punto di vista agricolo ma in cui c'erano feudatari famiglie feudali molto potenti ma la gente da noi era estremamente povera più povera che in altre zone del Tirolo il fatto che la nostra chiesa sia meno decorata di tante altre è dovuto sia chiaramente a secoli successivi insomma di perdite di restauri a volte anche scellerati dopo il consiglio Vaticano II ma è dovuta anche al fatto che le nostre zone evidentemente erano più poveri rispetto alle zone per esempio del Sud Tirolo o altre zone del Trentino dell'epoca e la nostra architettura l'architettura nostra del Cinquecento del Seicento è un'architettura estremamente povera ciò non toglie che sia un'architettura per quanto riguarda la chiesa parrocchiale molto forte dal punto di vista simbolico però appunto c'erano c'era bisogno di molti molti denari per costruire questa chiesa e soldi mancavano quindi l'obbligo da parte dei fuochi delle famiglie ecclesiane di dare questi venti grossi e poi Bernardo Cles per ben due volte nonostante il traffico delle indulgenze sia stato una delle cause dello scisma protestante grazie Bernardo Cles appunto per due volte mi pare nel 35 e nel 37 ha concesso cento giorni anche lui di indulgenze per chi avesse donato dei soldi per l'arredo della chiesa in quell'epoca lì non era più per la costruzione perché era già stata costruita era per poterla arredare perché era estremamente spoglia Bernardo Cles sceglie molto diciamo molto probabilmente perché la certezza non ce l'abbiamo perché non c'è un documento che teorizzi in qualche maniera questo stile o che dica io Bernardo Cles voglio che sia fatta in questa maniera quindi sono i vari studiosi che sono arrivati a queste conclusioni non è come con il gotico con la batte suge che va proprio a teorizzare il gotico dice il gotico va fatto in più in alto possibile per andare verso Dio deve essere molto luminoso perché la luce è Dio eccetera eccetera ma in questo caso si presume che Bernardo Clesio visto il rinnovamento che aveva voluto comunque in altre appunto nell'urbanistica o nell'architettura per quanto riguarda il castello del Buon Consiglio lì sì che abbiamo i documenti però abbia voluto uno creare con la chiesa di Cles una sorta di stile ibrido che è proprio di molte zone di rivero di frontiera non solamente della nostra ma che viene definito stile ecclesiano che è un misto tra il gotico stile propriamente nordico e tedesco e il rinascimento italiano noi terra di frontiera abbiamo avuto in questo momento lo sviluppo diciamo così di quello che viene considerato un vero e proprio stile questo stile ecclesiano che è questa commistione del gotico e del rinascimento una commistione che in realtà marginalmente vediamo già qualche anno prima c'è la basilica dei Santi Marti di San Zeno che viene definita l'archetipo dello stile ecclesiano quindi la chiesa di Ecclesa è il prototipo dello stile ecclesiano e la basilica dei Santi Martiri è l'archetipo e la chiesa dei Santi Martiri in realtà è quasi completamente gotica ma di rinascimentale qua siamo nel 1470 quindi siamo comunque 40 anni prima 50 anni prima di rinascimentale ha un aspetto il fatto che l'interno sia molto arioso lo vedete da questa immagine nel gotico avremmo avuto una navata centrale molto alta le navate laterali molto più basse in questo caso invece l'architetto del periodo ha voluto dare un senso di ariosità e quasi di corpo unico all'interno della chiesa stessa cercare di avere un ambiente che fosse il più unitario possibile quindi abbiamo una distanza notevole tra una colonna e l'altra e soprattutto l'altezza delle navate che è quasi identica altra cosa i capitelli di queste colonne non sono gotici ma sono fogliati classicheggianti tendono al rinascimento quello mantovano del periodo un'altra cosa in realtà è di poco successiva direi vero la costruzione della chiesa è il portale che è una commistione tra rinascimento e romanico nel caso della chiesa di San Zeno però per questi due aspetti è considerato un archetipo dello stile della nostra chiesa la chiesa di Clesso invece è il prototipo di questo stile ecclesiano perché è la prima volta che degli forti elementi rinascimentali entrano all'interno di una chiesa gotica in Trentino di fatto e quindi è considerato il prototipo di questo stile che fiorirà completamente l'abbiamo visto nelle slide precedenti di Ruggero nella chiesa di Santa Maria Maggiore che è completamente rinascimentale la chiesa di Clesso vedete conclusa nel 1523 i lavori in realtà vengono conclusi nel 22 però sarà il 16 agosto del 1523 che Bernardo Clesso salirà per riconsacrare la chiesa la chiesa ha un aspetto generale gotico perché tende ad essere slanciata verso l'alto ma se noi andiamo a vedere alcuni dettagli e uno e tre anzi mi viene da dire in particolare che sono i tre portali non sono dei dettagli sono anzi dei punti molto importanti questi sono pienamente rinascimentali ma ho delle slide poi con dei con dei dettagli come rinascimentali sono anche non che nell'epoca gotica o romanica non facessero dei calcoli anzi erano maniaci della matematica quindi anche all'epoca facessero calcoli di questo tipo ma in questo periodo però ci sono dei calcoli forse ancora più maniacali complessi come quello del calcolo aureo che ritroviamo sia diciamo nell'intera facciata sia nel nel portale stesso tra l'altro dovremmo andare a misurarla con calma ma forse anche la pianta della chiesa dell'epoca potrebbe seguire la proporzione aurea un'altra proporzione in questa ricerca di rapporti geometrici o comunque il fatto che ci sia la volontà di avere ordine che è proprio del rinascimento mettendo delle geometrie diciamo pure all'interno di questa facciata l'abbiamo anche notando come la diciamo dal rosone in giù tutta questa parte di facciata sta all'interno di un quadrato mentre dal rosone in su qui abbiamo un triangolo equilatero abbiamo un triangolo equilatero che diciamo poggia sopra un quadrato ma poi il portale che è puramente rinascimentale qui vedete non c'è più niente di gotico ma abbiamo tutta una serie di riprese moderne chiaramente con un linguaggio moderno quello del primo cinquecento dell'arte romana in questo caso con delle lesene delle paraste con dei capitelli che sono tipici dell'arte rinascimentale delle rielaborazioni di quelli romani comunque abbiamo questo portale che è uno dei primi portali rinascimentali trentini con i tipici colori del periodo ecclesiano quindi il rosso e il bianco il rosso monitico e il bianco e vedete quel marmo nero all'interno delle lesene però anche qui abbiamo tutta una serie di elementi che sono che possono essere iscritti all'interno della proporzione aurea sopra il portale vi faccio notare perché non mi ricordo se ho messo una slide c'è lo stemma l'impresa ecclesiana e lo stemma del principato vescovile di Trento e in basso la data di consacrazione della chiesa ecco qui dei dettagli qui ho fatto apposta mettere il portale gotico della chiesa del mulo avrei potuto mettere quello di di Revoche più decorato e più complesso e più bello se vogliamo però vedete la differenza tra il gotico e il rinascimento un portale gotico a sesto acuto un portale rinascimentale con le diciamo le trabe azioni giusto e questa questa lunetta di rinascimentale ma non puramente rinascimentale qua siamo sempre nel librido abbiamo anche le finestre perché le finestre hanno una verticalità gotica ma hanno l'arco a tutto sesto e non a sesto acuto e delle decorazioni vedete che sono delle cornici classiche questo è un altro elemento appunto gotico cristiano cioè gotico rinascimentale dà anche l'idea che Bernardo Claes volesse parlare con un linguaggio nuovo diceva che si doveva entrare per una nuova porta da un certo punto di vista però tutte queste novità erano veramente nella chiesa di Claes ci sono ma sono velate e sono passate senza violenza perché probabilmente a noi adesso forse passano forse inosservate tutte queste cose ma all'epoca in quell'epoca strutturare una finestra da gotica da sesto acuto a tutto sesto comunque era sbalorditivo perché queste cose venivano chiaramente notate anche perché non erano bombardati dalle immagini come siamo il giorno d'oggi non erano bombardati dai cellulari da facebook da internet eccetera all'epoca le cose a parte la natura ma le cose artificiali erano estremamente poche quindi erano ben conosciute e notate quindi sia nell'architettura che nella pittura una novità faceva estremo scalpore ecco la verticalità gotica la vediamo da queste due immagini tra l'altro sui lati vi sono dei contraforti gotici non hanno nulla di rinascimentale come di rinascimentale non avrebbe nulla nemmeno la decorazione della volta cioè la volta con i costoloni in pietra è tipicamente è tipica di quello che viene chiamato gotico internazionale gotico fiorito cioè della parte più tarda del momento più tardo del gotico è molto utilizzato in Inghilterra in Spagna questo tipo di decorazione tipica del gotico fiorito ma tipica anche dello stile ecclesiano perché viene utilizzata in molte chiese ecclesiane questa pianta l'avevo disegnata qualche anno fa e quindi quasi una ventina di anni fa adesso la farei leggermente diversa perché tu giustamente prima hai parlato dell'inclinato capite della chiesa di De Resch che addirittura ce l'aveva negli schiaver chielodici nella apside romanica quindi tonda ma storta ma la chiesa di Chles se noi forse nelle fotografie da possinota la chiesa parrocchiale ha l'inclinato capite anche la nostra apside quando siamo lì in chiesa la notiamo bene è storta è piegata da una parte per riprendere la testa del Cristo sulla croce e lo notiamo poi dalle fotografie o comunque quando andremo lì in chiesa anche dal fatto che le finestre e il rosone sono completamente scentrate rispetto a ogni paretina e questa pianta ve la faccio notare perché quando noi parliamo della ricostruzione ecclesiana della chiesa quindi della chiesa rinascimentale di questo periodo in realtà dobbiamo pensare sì alla chiesa che vediamo adesso ma con una modifica con una differenza non non minima cioè il fatto che fosse di due campate più corta perché la chiesa ecclesiana misurava sei campate quella costruita da Bernardo Kles poi nel 1817 visto che Kles aveva raggiunto i 2000 abitanti non ci stavano più all'interno della chiesa si era deciso di allungare la chiesa parrocchiale e anche la chiesa di Mechel pochi anni dopo cioè entrambe le chiese sono state allungate adesso quella di Mechel non mi ricordo di quanto ma quella parrocchiale di due campate e la cosa interessante è che durante quei ristauri nel 1818 si è scelto in accordo con la popolazione quindi era avanzatissimo mi viene da dire nel pensiero si era concordato di mantenere l'aspetto della chiesa ecclesiana quindi il primo progetto che era stato proposto con l'abbattimento della facciata e la costruzione di una facciata neoclassica per l'allungamento viene bocciato e la chiesa e la facciata in realtà viene smontata tutte le pietre numerate quelle del portale quelle dei contraforti e spostate semplicemente più avanti quindi abbiamo l'aspetto che è lo stesso della chiesa ecclesiana ma non abbiamo più le proporzioni pure della chiesa ecclesiana la chiesa ecclesiana era più piccola chiaramente quella del 1500 era 8 metri più corta circa però doveva essere ancora più svettante chiaramente perché era più corta e ancora più alta un po' come quella di Civezzano che è rimasta invece che è rimasta pura no qua mi lungherei troppo ma se andate a leggervi sul libro di Cles che abbiamo pubblicato lì ci sono anche degli estratti molto interessanti con la confraternita dei battuti e appunto la popolazione di Cles che si rifiutano di fare questi lavori alla chiesa parrocchiale ma anche semplicemente di ingrandire una delle cappelle laterali che sarebbero state uno sconso loro dicono per l'architettura della chiesa il rinascimento passa anche nella struttura della chiesa arcipretale quindi non solamente nel portale nelle finestre ma un'altra novità importantissima questa forse è la più importante di tutte il portale stilisticamente ma dal punto di vista strutturale e anche forse dell'impatto entrando in chiesa la principale è il fatto che questa è una chiesa navata unica e nel 1500 14 15 insomma i lavori poi sono stati finiti nel 22 ma in una zona periferica come la nostra costruire una chiesa di queste dimensioni con un'unica navata sicuramente è stata un'impresa tra l'altro la tecnica costruttiva locale è una tecnica con murature con pietre di fiume miste quindi voglio dire non abbiamo le pietre squadrate come in Toscana a Pisa dove chiaramente quel tipo anche di costruzione muraria ha una una diversa resistenza immagino rispetto alla nostra insomma quindi qua è stata costruita una volta di 12 metri di luce con dei materiali estremamente estremamente poveri per sorreggere il peso di questa volta chiaramente c'è stata una necessità fondamentale che è stata quella di ridurre al minimo le finestre quindi le finestre sono poche anche per sorreggere i pesi di questa volta che comunque in maniera molto elegante vedete con questi pennacchi va a appoggiarsi alle pareti e ai contrafforti esterni il fatto che sia una vata unica è una novità importante riprende in realtà tutta una serie di chiese rinascimentali pensiamo tornando a Mantua che era forse una delle città del grande rinascimento più vicine a noi a Mantua a Sant'Andrea e non solo Sant'Andrea ma anche gli altri templi rinascimentali dell'epoca albertiani è a navata unica è a navata unica le dimensioni sono completamente diverse perché li parliamo di una chiesa di 100 metri di lunghezza però questa riprende quel tipo di diariosità non solamente l'unica navata ma anche il fatto vedete che la volta a botte è a tutto sesto e non a sesto acuto nel gotico avrebbero assolutamente fatto una volta a punta insomma a sesto acuto in questo caso no e altra cosa curiosa che dà l'idea di come siano stati precisi in tutti i loro calcoli nella ricerca del bello della proporzione della pulizia è il fatto che noi possiamo disegnare un cerchio perfetto che tocca il soffitto e il pavimento all'interno della nostra chiesa parrocchiale qui niente un'altra immagine nel periodo chiesiano i costoloni erano dipinti con dei fiorellini alcune tracce anche durante i restauri si sono notate ma molto probabilmente l'apsde era tutta affrescata perché negli scavi archeologici di vent'anni fa sono stati trovati tutti gli intonaci dipinti utilizzati ormai come riempimento del 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 pavimento insomma quindi comunque sia la chiesa cinquecentesca era più colorata insomma rispetto a come la vediamo ora ecco l'allungamento delle ultime due campate fatto nell'ottocento rispetto alla chiesa ecclesiana noi lo notiamo anche dai costoloni i costoloni delle ultime due campate sono in cemento diciamo così materiale cementizio mentre quelli chiesiani sono tutti in pietra questo è uno dei portali laterali la porta centrale rivolta verso l'antico cimitero con vedete lo stemma della famiglia del principato vescovile di Trento nel portale verso meridione la data della riconsacrazione c'è bernardus clessius qua scrive episcopus tridentinus mille vedete cinquecento ventitré la chiesa di cless è il prototipo per tutta un'altra serie di chiese che vengono costruite e ricostruite in quel periodo dove come ho detto prima ha voluto questo grande rinnovamento che doveva attuarsi nei centri principali ma anche nelle zone più periferiche le altre due grandi chiese clessiane dopo diciamo a livello cronologico la chiesa di cless sono la chiesa di santa maria maggiore a Trento la chiesa di santa maria assunta a civezzano la chiesa di santa maria maggiore a Trento ha tra l'altro qua nell'area absidale un bellissimo basso rilievo con due angeli che sorreggono lo stemma clessiano con la data 1520 e i lavori vengono conclusi nel 24 la chiesa vedete adesso qui non ci sono i metri insomma però è molto più grande della chiesa di cless è stata voluta da Bernardo cless pensando già al concilio di Trento e a ospitare il concilio che appunto per le prime sedute venne ospitato all'interno della chiesa di santa maria maggiore Trento poi questa chiesa in realtà era troppo piccola anche per il consiglio stesso quindi tutti i cardinali si dovessero spostare in duomo ma Trento stessa era troppo piccola per il consiglio perché si lamentavano tutti i cardinali abituati a starsene a Roma a Madrid eccetera che la città era un paesino e non ci stavano bene ma questo è un altro discorso quindi Bernardo cless ha fatto uno sforzo in mane ma poi quando sono arrivati questi che erano abituati a Palazzo Farnese a Roma ciao hanno detto ecco a destra invece avete la pianta di Santa Maria Assunta Civezzano molto più tarda iniziata nel 33 finita nel 38 la chiesa la chiesa di Civezzano dove siamo in zona la famosa zona mineraria insomma della Val Sugana piena di immigrati tedeschi insomma di origine tedesca è un po' come la chiesa di Cless cioè è un ibrido è tra lo stile gotico tedesco e il rinascimento la chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento invece in città poteva permetterselo c'era forse un'apertura mentale maggiore è completamente rinascimentale qui alcuni dettagli della facciata la facciata davvero non fa testo perché sta ricostruita quasi completamente nel primi novecento della chiesa di Santa Maria Maggiore ma il portale vedete che il portalone rinascimentale quello di Cless è un po' più modesto diciamo così e forse è più bello è più proporzionato questo è quasi barocco anche perché siamo comunque in un periodo storico siamo già verso il manierismo in realtà insomma quindi il nostro rinascimento arriva con cento anni di ritardo rispetto al resto d'Italia ma ne parlavo con Anna Maria Zolini del Buon Consiglio l'altro giorno parlando proprio di questo fa sì però voi non si mi ha detto e questo mi ha fatto anche piacere nonostante le cose arrivano in ritardo rispetto al resto d'Italia però arrivano mi fa rispetto al resto del Trentino arrivano sempre prima mi fa perché il romanico il gotico il rinascimento eccetera sono sempre arrivati in ritardo rispetto al resto delle altre zone d'Europa perché sulle Alpi è così però un po' prima rispetto agli altri quindi fa anche piacere un po' di campanilismo cosiddetta da una non nonesa e questa invece è la chiesa di Civezzano la chiesa di Civezzano vedete si qua veramente è incredibile come ci siano le finestre gotiche pienamente e invece che avere i contraforti gotici abbiamo delle lesene o delle paraste quasi rinascimentali quindi anche qua la volontà di questa commistione tra gotico e rinascimento vado sto per concludere vi faccio vedere come la chiesa di Cles abbia influenzato l'architettura delle altre chiese della nostra valle adesso qua mi riferisco solo alla Nonaunia ma ci sarebbero esempi da fare anche fuori dalla Valle di Non però pensate in Valle di Non quante chiese si sono rifatte all'esempio della chiesa di Cles sia sulla spinta di Bernardo Cles stesso perché la chiesa di Denno viene ricostruita a partire dal 24 per volere di Bernardo Cles ma vedremo anche successivamente come l'influenza sarà forte quindi prima che arrivi poi il barocco dovranno digerirsi bene la chiesa di Cles prima guardate a Denno abbiamo un portale che è l'esatta copia un po' semplificata in realtà nella decorazione ma è l'esatta copia anche nella dimensione in questo caso del portale della chiesa di Cles è la chiesa dei Santi Gervasio a Protasio di Denno una versione molto simile l'abbiamo anche a Flavon a Flavon se non pensiamo a questo timpano triangolare la parte sotto vedete è molto molto simile al portale della chiesa di Cles siamo nel 1537 a Torra la pieve di Torra è una delle pieve storiche della Valle di Non è antichissime ma il portale è una ripresa semplificata del portale della chiesa di Cles ma siamo nel 1618 c'è cento anni dopo altri portali Vervo che è la ripresa vedete a livello proprio di strutturale diciamo così formale del portale della chiesa di Cles e il portale di Quetta a Quetta c'è una chiesa piccolina ma a Quetta era nato Antonio Quetta che era segretario di Bernardo Cles e quindi la chiesa andava messa a posto in stile ecclesiano e quindi il portale è rinascimentale agli stessi capitelli uguali che sono gli stessi che troviamo negli affreschi del Mantegna a Mantua però anche qua abbiamo una versione diciamo semplificata della struttura del portale di Cles con la lunetta sopra ad Ambel questi sono esempi diversi a dire il vero però sono altri esempi rinascimentali il cui se noi vediamo per esempio il capitello ad Ado è sempre molto simile a quelle che troviamo nella chiesa di Cles a Molanza 1527 ad Ambel 1570 e la chiesa di San Vigilio a Pez questa è una foto vecchia il portale è restaurato adesso però il portale è un portalino rinascimentale di poco più tardo rispetto a quello della chiesa parrocchiale alcuni dettagli dei capitelli ad Ado che si rifanno tutti all'esempio dei capitelli che ci sono nella chiesa di Cles l'interno clesiano l'interno arioso clesiano l'abbiamo in tutta una serie di chiese clesiane cioè ricostruite in periodo clesiano Lanza di Rumo nel 1527 Quetta Preghena ecco Preghena per dire c'è l'arco a tutto sesto non a sesto cuto ma anche nella chiesa di Quetta qui non lo si vede l'arco santo a sesto cuto ma il resto della chiesa è a tutto sesto diverso ad esempio questo ve lo ho fatto vedere ve lo faccio vedere per due motivi uno perché la chiesa di Cles a livello di decorazione doveva essere forse simile a questa parlo di affreschi due perché la chiesa di Castelfondo costruita in periodo clesiano nel 1530 è sotto l'influenza dei conti Thun assolutamente famiglia tedesca insomma a quel periodo lì anche i chiesi lo erano direi vero ma i Thun ancora più vicini all'area tedesca in quel periodo storico lì di lingua tedesca eccetera eccetera nonesi di lingua tedesca la chiesa di Castelfondo viene fatta a Navata Unica e quindi qui abbiamo la somiglianza con la chiesa di Cles però completamente gotica qui probabilmente fare una chiesa con degli elementi rinascimentali sarebbe stato non accettato come in Sud Tirolo per dire non sarebbe stato accettato ecco la chiesa di Torra invece 1618 1624 quindi cento anni dopo quella di Cles ma lo stile è quello eclesiano a Lanza ve l'ho fatta vedere anche prima dall'altra parte stile eclesiano ma poi la cosa più clamorosa dello stile eclesiano è la chiesa di Santa Maria Assunta Mechel perché è la versione in piccolo della chiesa di Santa Maria Assunta con tutti gli elementi gli stessi elementi però semplificati e miniaturizzati quindi abbiamo analogamente alla chiesa arcipretale di Cles l'arco santo gotico mentre la volta è a tutto sesto abbiamo le stesse tipologie di contrafforti semplificati abbiamo lo stesso portale ma semplificato abbiamo una facciata capanna però che è meno acuta rispetto alla chiesa di Cles comunque qui siamo in una copia in scala del 1585 questa è un'altra immagine vedete come si evince la somiglianza netta fra le due chiese e le due volte a botte viste verso la controfacciata con la stessa decorazione a a costoloni mamma mia ecco era l'ultima slide se avete delle domande altrimenti non vi racconto della chiesa di chiesa dal 1500 in poi perché lì bisogna fare un altro capitolo dove parleremo o ecco lo farà Don Turrini dove parlerà dell'altare della para d'altare di tutte le altre opere bellissime che ci sono all'interno della lunghissima storia che ha avuto poi nei secoli successivi ecco se avete delle domande altrimenti vi ringrazio per per l'attenzione intanto siete sopravvissuti non tutti probabilmente grazie quindi l'invito ad entrare in chiesa e provare a apprezzare così con la nostra esperienza quello che vi abbiamo poi raccontato allora il 28 di luglio ci sarà la Malparada quindi una ripresa della grande parata storica che Bernard no storica della parata di insediamento a Vescovo di Trento che il Clesio ha fatto a Trento e noi con le nostre associazioni teatrali chiamiamole così viene fatta una rivisitazione e avremo questa possibilità penso il prossimo appuntamento è questo credo Simone e poi andremo ai festeggiamenti più di Ferragosto più a ridosso del 16 che è la giornata precisa dell'anniversario per poi andare magari in inverno e tornare ad approfondire le tematiche grazie e buonanotte bravo Leo bravo 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 Leo grazie grazie grazie